Essere i grandi della Terra e sentirsi piccoli, di fronte al coraggio e alla passione della giovanissima Greta Thunberg, che con la sua ringa feroce a favore del pianeta ha fatto impallidire anche i piani ambientali più ambiziosi. Le parole di Greta sono destinate a restare nella storia e a pesare sulla coscienza di chi ha il potere di cambiare le cose. Tutto questo è sbagliato, non dovrei essere qui, dovrei essere dall'altra parte dell'oceano, a scuola. Volete speranza da parte nostra, ma come usate? Siamo all'inizio dell'estinzione della nostra specie e voi non sapete parlare d'altro che di soldi e favole sull'eterna crescita economica, ma come potete? Non doveva esserci, ma poi ha fatto un'inaspettata comparsata, Donald Trump, che resta scettico sul riscaldamento climatico. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aveva chiesto ai leader mondiali di arrivare con un piano concreto per ridurre le emissioni di CO2. Si è inserito su questa scia l'intervento del presidente francese Emmanuel Macron, che ha dichiarato di voler interrompere tutti i rapporti commerciali con i paesi che non seguiranno l'accordo di Parigi sul clima. Non possiamo dire di sostenere la lotta contro il cambiamento climatico, per la biodiversità e continuare a finanziare infrastrutture in altri paesi che inquinano. A metà strada tra l'essere un paese virtuoso e conservatore è l'India di Narendra Modi, che ha annunciato forti investimenti nelle energie rinnovabili senza rinunciare però al carbone. Mentre la Cina resta il primo paese inquinante al mondo, ma va comunque fiera dei grandi progressi fatti e che tutti le riconoscono. 70 nazioni, la maggior parte paesi in via di sviluppo e che producono circa il 7% dei gas a effetto serra, si sono impegnati questo lunedì a sforzi considerevoli entro il prossimo anno.